Salve a tutti, siamo qui all'infopoint di Via Colla di Rienzo per il firma day, la raccolta delle firme e la rappresentazione della lista comunale il nostro candidato sindaco è Virginia Raggi che è qui presente è contornata da tanti cittadini che le fanno tante domande è una giornata molto entusiasmante, semplice quando noi siamo in mezzo alla gente e parliamo dei nostri programmi come se questi programmi fossero sempre stati nel cuore delle persone in attesa, nella speranza che vengano realizzati Stiamo raccogliendo le firme con il nostro firma day raccogliamo le firme per la presentazione della lista di Virginia alle comunali e ovviamente alle liste municipali che sono connesse c'è una grossa affluenza di gente abbiamo avuto notizie dagli altri municipi che ci sono addirittura le code quindi questo è un buon segno è un momento molto molto importante perché questa campagna elettorale sarà una vera battaglia è una sorta di battaglia finale in un certo senso perché siamo determinati e perché è il caso di brutto il termine ma prendere Roma dobbiamo riuscire a prendere Roma per riappropriarci di Roma e ridarla ai romani Siamo qui a firmare insieme con Virginia per dare un ulteriore segnale al fatto che noi vogliamo realmente che si cambi si cambi meglio, si cambi soprattutto a favore e nella direzione delle esigenze dei cittadini e non attraverso i favori che si danno a pochi perché quello non garantisce il cambiamento quello garantisce il cancro della società sono gli stessi cittadini che devono partecipare al progetto di cambiamento e di rinnovamento questo è importante non vogliamo VIP, non vogliamo deleghe in bianco non vogliamo persone che non vengano controllate è un percorso al contrario che vogliamo fare tutti insieme faremo tutti insieme ed è l'unica strada per il cambiamento